se mangia fa ore di pizzo pensa a fare un altro fumare da parte sua o da parte me o da parte su allora dai car me li vedi mi faccio la velocità no adesso io faccio un po' così cioè i bietti non fatti come così oh no oh su facebook me lo scrive si chiama car me il suo lavoro però dai io chi c'ha amici il sede barbara gli arrivano infatti mi arrivano c'è me maglia aglio slettia